Non so come fare a pulire il bagno con qualcosa di naturale, semplice, da fare in casa. Ci vorrebbe, mi sa, un gioco a fare? Hai permesso? Ciao, ciao Carmela! Ciao! Mi hai chiamato? Mi hai chiamato? Allora, guarda, innanzitutto quanti prodotti commerciali, quindi potremmo autoprodurre qualcosa, però semplicemente per pulire il bagno come la casa basta usare aceto bicarbonato, ovvero l'aceto lo possiamo utilizzare su tutto ciò che sono le finiture in acciaio perché è lave calcare, è sgrassante ed è ottimo. Se dobbiamo inginizzare, possiamo usare il bicarbonato o direttamente o anche, o meglio, diluito. Mentre l'aceto non diluito. Lo possiamo diluire con un po' d'acqua per non sprecare se è proprio... invece il bicarbonato lo diluiamo semplicemente in 46 grammi circa in 500 millilitri che viene fuori uno sprozzino che costerà, non so, 10 centesimi, un costo veramente eccelso, diciamo. E quindi questo ha più o meno solo... Sì, ho anche delle muffette! Ah, delle muffette, delle simpatiche muffette! Allora, per la muffa il rimedio più semplice in assoluto, anzi, faccio un indovinello, è uno dei prodotti che ho già citato. Il bicarbonato? No, era l'altro! L'aceto! Perché è bianco, bianco è un muro, no? No, allora, l'aceto bianco va benissimo, è un ottimo perché è anche un antimicotico, ovvero cerca... è un'azione repellente nei confronti delle muffe. Quindi non si riformano teoricamente, non si dovrebbero comunque... Diciamo, poi ci sono vari metodi, anche con la borace, però l'aceto è come primo inizio, come primo approccio all'antimuffa ottimo, quindi su una pezzetta un pochino di acquaceto e piano piano si va a passare la pezzetta su tutta la parte, si ripete più o meno una volta a settimana, finché la muffa non scompare. Poi ci sono altri metodi, ma questo intanto è il più economico e il più semplice e ci evita pure di dover magari ritenteggiare. Bravissimo! Tutto! Ok, poi vedo qui delle pinze. Allora, una cosa che ti chiedo, ma tu pulisci mai i filtri dell'acqua? Non sempre, l'ha fatto mia madre due anni fa. Allora, ti posso dire questa cosa, il non pulire i filtri comporta uno spreco di acqua enorme perché l'acqua emette una pressione molto forte. Se c'è un filtro di calcare che la blocca, quindi se il calcare, scusami, occlude i pori del filtro, l'acqua comunque va, quindi tu la paghi quella che va, ma esce rallentata. Quindi ottimo è sicuramente mettere gli adattatori di flusso, quelli che rendono il flusso areato, si chiamano areatori di flusso, che lo mixano con l'acqua, quindi il flusso è più forte e ti fanno risparmiare dal 20-30%, invece semplicemente con una pinza, adesso poi te lo farò con calma, si aggancia e possibilmente mettiamo un panno, altrimenti si rovina la finitura, si tiene, si gira e si leva il filtro. Con una limetta puoi andare a grottare via, oppure usi il simpatico amico di aceto, sempre lui. Se, quindi questo sicuramente è un ottimo metodo, poi invece ti volevo dire una cosa, invece sulle fughe delle piastrelle, un metodo molto semplice, allora vedo qui che c'è proprio una ciotolina, un metodo semplice è quello di prendere un classico bicarbonato che abbiamo utilizzato, io prendo un po' di acqua d'acqua, guarda, e facciamo una piccola pasta, questa pasta di acqua e bicarbonato, quindi proprio semplice, soprattutto ecco vedi, una parte un po' più densa la possiamo usare anche sui muri laterali, la parte un po' più liquida, quindi con meno spreco di bicarbonato sul pavimento, si lascia in posa per circa una notte, dopo una notte è impressionante, cioè per sparco non c'è, completamente bianca e se la fai su una sola piastrella è un problema, perché quella rimane bianca, si vede la differenza, lo devi fare tutto insieme, ok, poi invece finiamo, magari ti dico per come togliere il calcare da un filtro che non si può sganciare, eh sì, perché io ce n'ho uno che non si può sganciare, ok, allora in questo caso mi prendi per favore l'aceto? Utilizziamo una classica bustina, quindi non possiamo sganciarlo, ma mettiamo dell'aceto in una bustina, piano piano, lo rendiamo diciamo a misura, dopodiché inseriamo la bustina in questo modo, mettiamo il filtro a contatto con l'aceto e leghiamo con un elastico, anche qui si lascia il tampon di una notte, quindi la sera ti svegli ed è sgrassato completamente, ok, e qui sì, guarda, sono piccolissimi consigli per risparmiare in casa e avere la casa panico, ecologica, va bene, va bene, ti ringrazio per aver partecipato, no, grazie a te che si spuntava proprio nel momento del bisogno, tutti i consigli che sono anche contenuti nel mio libro che uscirà il 3 novembre, che è RIS, che esce, uscirà, insomma, giorni e risparmia 700 euro in 7 giorni, edito dal gruppo editoriale Macro, grazie, a presto, a presto, ciao!